Il TG6 è stato firmato questa mattina nella sala del CDA del Rettorato dell'Università di Teramo, il primo accordo in Abruzzo tra le pubbliche amministrazioni per i progetti del Masterplan della Regione Abruzzo che riguarda la città di Teramo. Con la sigla dell'accordo, primo in Abruzzo tra le pubbliche amministrazioni, si avvia di fatto la collaborazione tra gli otto enti per la successiva realizzazione dei progetti strategici previsti dal Masterplan. Questo è un accordo che rende certo il tempo di esecuzione degli interventi e la raccolta delle autorizzazioni, ma questo accordo è fondamentale poiché si determina nel riconoscimento reale di bisogni concreti, nella copertura finanziaria certa e in una volontà condivisa di fare tutto ciò che è contemplato. Noi parliamo di un accordo che mette in campo mobilità, mette in campo cultura e collocazione identitaria della città di Teramo e poi ricerca scientifica, sviluppo economico e poi anche un'ulteriore modernizzazione degli spazi destinati all'educazione e alla formazione. Nei fatti è un accordo davvero di sviluppo. Sono contento che si è potuto mettere in campo questa formidabile condivisione. Da questo momento, questo è il momento del DSAQ per intravedere di qui a qualche tempo le tute degli operai sporcate di cemento, perché devono partire i cantieri. Tra i progetti per il territorio, il recupero dell'ex manicomio e la funivia di collegamento tra centro storico e università. Le prime fasi realizzative saranno la messa a punto di progetti esecutivi e di bandi per la realizzazione delle opere. Sono progetti particolarmente importanti, non solo per il significato che assumono per la città, per il territorio, ma anche per la complessità. Sono progetti che andranno a restaurare manufatti importanti, identitari per la storia della città, come l'ex manicomio. Quindi sono ristrutturazioni particolarmente impegnative, perché sui mobili vincolati di elevato pregio architettonico ed artistico. Sono progetti di grande rilancio del polo di ricerca dell'agrobio veterinario, insieme allo zoo profilattico. Nell'università si procederà a realizzare quel centro, AgribioServe, che ha un'ambizione, ma un'ambizione direi concreta e fondata, di diventare nel breve giro di qualche anno un centro di riferimento internazionale per questi settori nella ricerca scientifica. Provincia in crisi, la pubblica sicurezza è a rischio, così gli amministratori delle province lanciano un appello al governo impossibile portare a termine i bilanci 2016, secondo le regole della legge del Rio. Francesca Romana Testi. Emergenza provincia, a Pescara si riuniscono i presidenti di Teramo, Pescara e Chieti per chiedere al governo una manovra capace di dotare di strumenti finanziari gli amministratori. La legge del Rio non ha funzionato ed oggi i tagli praticati si traducono in rischio per i cittadini che si trovano strade dissestate e istituti scolastici che versano in pessime condizioni. L'indignazione dei pubblici amministratori si traduce in vera e propria preoccupazione. Intanto lo sblocco dei fondi stanziati, per esempio i 20 milioni di euro che servivano e servono per sopperire ai costi che stiamo sostenendo dal 1 gennaio 2015 per il personale che sarebbe dovuto passare alle regioni, ancora non sono passate del tutto alle regioni. oppure c'è un fondo di 100 milioni di euro da valere sull'ANAS per quanto riguarda la viabilità. Se qualcuno si fa male su una strada la responsabilità diretta è dei dirigenti. Ora come fanno i dirigenti a curare le strade ammalorate, a mettere in sicurezza se lo Stato non ci trasferisce quei fondi che sono fondamentali per poter mitigare alcune situazioni che sono veramente compromesse. I dettagli arrivati al governo insostenibili perché non ci permettono di garantire i servizi essenziali e i servizi minimi ai nostri cittadini, quindi oggi province hanno difficoltà a chiudere il bilancio. L'appello ai parlamentari perché è una richiesta d'aiuto, le responsabilità ci sono ma non ci sono gli strumenti per poter garantire la sicurezza per le province? Siamo in una fase di riorganizzazione dell'assetto istituzionale del Paese anche alla vigilia del referendum costituzionale. Vi assicuro però che c'è grande sensibilità, grande consapevolezza sia da parte del governo che da parte del Parlamento, di ogni colore politico, di quanto questo strumento intermedio del potere popolare sia importante per la tutela del territorio. Tra le cronache sarebbe già stato individuato dai carabinieri della compagnia di Pescara l'uomo che nella serata di ieri armato di pistola ha rapinato un assessore del comune di Cepagatti. Il grave episodio si è verificato ieri sera intorno alle 21.30 nel piccolo centro in provincia di Pescara nei pressi del castello Marcantonio dove l'amministratore locale è stato avvicinato da uno sconosciuto che sotto la minaccia del revolver lo ha costretto a salire in auto. Una volta dentro il malvivente si è prima fatto consegnare 100 euro e poi ha costretto la vittima a guidare fino a Pescara dove si è fatto lasciare in una via del quartiere Rancitelli. E prosegue anche se in maniera meno intensa di ieri l'ondata di maltempo nella nostra regione la zona più colpita è il Terramano. Pineto chiede lo stato di calamità. Paolo Renzetti. Sindaco Verrocchio, situazione di emergenza, Pineto per il maltempo, chiederete lo stato di calamità? Assolutamente sì e chiederemo alle istituzioni di essere al nostro fianco. È successo qualcosa di inverosimile. Nel giro di tre o quattro ore abbiamo avuto la pioggia che normalmente viene giù in quattro mesi e stiamo sfiorando 200 mm d'acqua. Il tutto si è concentrato in particolar modo sul centro, quindi nelle zone della costa, alcune vie perpendicolari. Ovviamente adesso stiamo cercando di fare i miracoli perché abbiamo il paese pieno, le strutture sono piene di turisti e abbiamo il dovere di fare il possibile. Ringraziamo tutti i volontari e gli operatori affinché nella giornata di domani e dopodomani quantomeno si ripristino un po' di normalità. Certamente abbiamo bisogno di aiuto in questo momento, abbiamo bisogno delle istituzioni perché stiamo fronteggiando un'emergenza e utilizzeremo anche fondi che non abbiamo per dare una risposta al territorio. Però noi speriamo davvero che ci sia un aiuto in tal senso. C'è già una stima dei danni subiti? Guarda, si sta facendo in queste ore ma credo che abbiamo già sfiorato il 300-400 mila euro. Però adesso non abbiamo una stima precisa ma immaginiamo che da queste somme è a salire. Danni soprattutto, come diceva, sulla costa. È andata un po' meglio invece nell'entroterra e nelle frazioni? È andata un po' meglio nelle frazioni perché si è concentrati sulla costa. Noi avevamo fatto già un lavoro nei giorni precedenti, ovviamente guardando al meteo che ti dà la possibilità di fare anche questo per assicurarci che tutti i canali fossero liberi. E di fatto erano tutti liberi. Abbiamo avuto però una spiaggia aggressiva, diciamo un mare aggressivo che non ha consentito quel quantitativo enorme d'acqua di defluire da nessuna parte per cui il paese è stato interamente allagato. Anche il centro non si è mai visto una cosa del genere, almeno negli ultimi 12-13 anni. E proprio della situazione delicata che si è registrata a Pineto ha parlato il presidente della regione D'Alfonso a margine della firma del Masterplan. Ascoltiamolo. Purtroppo questo è un problema che noi abbiamo in agenda circa il governo della reggimentazione delle acque. Dobbiamo sapere che gli anni lontani, lunghi passati vanno recuperati attraverso piani, progetti e risorse finanziarie. Noi a oggi per la reggimentazione delle acque abbiamo assegnato qualcosa come 170 milioni di euro. Bisogna fare quello che si è saputo fare a Teramo Città tra università, comune, provincia, regione e il contesto degli altri soggetti. Mettere insieme tutti quelli che devono dire di sì e poi fare le cose. Qui produrrà risultati. Lì circa il governo della reggimentazione delle acque dobbiamo invece impiantare questa nuova cultura. E a seguito del maltempo che ha interessato la nostra città, ha scritto in una nota il vice sindaco di Pescara del Vecchio e della comunicazione che ci giunge dall'ACA di avvenuti sversamenti dei propri impianti di acqua nel fiume Pescara e nel fosso Vallelunga all'amministrazione comunale. Come da procedure ha avviato la comunicazione del divieto temporaneo di balneazione agli stabilimenti balneari attraverso i relativi cartelli. Tale divieto si estenderà per le 48 ore successive alla fine delle operazioni di sversamento. I divieti di balneazione riguardano i punti classificati con acque scarse a nord dalla Capanina ad Ai Bin, mentre per la riviera sud per Fosso Vallelunga si estende dal circolo della vela alla Zattera. E ad Ortona il centrodestra critica aspramente l'operato del governo D'Alfonso sul caso del dragaggio del porto di Ortona tra lungaggini e ricorsi al TAR a rischio i 9 milioni di fondi FAS 2007-2013. Un rallentamento che potrebbe costare alle casse della regione ben 9 milioni di euro. A lanciare l'allarme ancora una volta è il presidente della commissione di vigilanza Mauro Febbo che sull'atteso dragaggio aveva più volte messo in guardia il governo regionale. Oggi la situazione si prospetta con un nuovo interrogativo che, attendendo i tempi burocratici del ricorso in atto, potrebbe far perdere i fondi FAS ottenuti dall'Aggiunta ai Chiodi. Gli sviluppi giudiziari in buona sostanza ulteriormente hanno creato confusione per quanto riguarda poi l'effettivo svolgimento del dragaggio. In effetti siamo al punto che la sentenza di primo grado che affidava, anche se per via indiretta, al secondo classificato è stata impugnata in sede di appello e lì è stata concessa la sospensione per cui se va bene fino a settembre non si fa nulla. Al centro delle titubanze del centro-destra l'assenza di una vasca di colmata che raccolga i 60 mila metri cubi di sabbia inquinata. Secondo i dati a disposizione la ditta che dovrebbe eseguire lavori prevederebbe il deposito sulla banchina e da qui l'interrogativo di chi poi dovrà sostenere i costi di smaltimento. Avremo un mucchio di 14 metri di altezza che senza poi sapere chi in effetti poi chi li dovrà smoltire a spese di chi, insomma è una confusione totale nel vero senso della parola. Qual è invece il suggerimento del centro-destra per la questione? Ma a questo punto io non penso che si possano dare suggerimenti anche perché noi il suggerimento quando i tempi erano ancora utili avevamo detto fermatevi, cercate di capire perché il problema sono sempre lo smaltimento di quelle sabbie inquinate. Il gruppo Baltur ha presentato questa mattina il nuovo orario generale delle linee nazionali ed internazionali dei brand di proprietà, orari aggiornati sul sito della Baltur. Oltre 5.000 agenzie di viaggio su 11.500 presenti in Italia vendono Baltur e con la convenzione Sisal Baltur offre ai suoi clienti 40.000 punti vendita in bar e tabacchi in Italia. Presentiamo alla città e all'Abruzzo questa nostra realtà societaria. Abbiamo un incremento notevole di forza lavoro, tanto per iniziare. Abbiamo un incremento di passeggeri che è la nostra forza che ci consente appunto di fare questo. Quindi stiamo sviluppando notevolmente la rete sia nazionale che internazionale. Come è cambiata la sinergia tra istituzioni regionali e la Baltur, che comunque è una società privata, negli anni? Un rapporto di grande collaborazione. Noi veniamo da una cultura del rapporto con la pubblica amministrazione in generale, qualunque sia, perché siamo concessionari di servizi pubblici, quindi è nel nostro DNA avere la collaborazione proprio fattiva con la pubblica amministrazione. Sul trasporto regionale in questi ultimi giorni c'è stata qualche polemica e qualche distanza? No, nessuna polemica c'è stata. Ci sono stati dei punti di vista che sono stati espressi. Sono stati chiariti? Sì, assolutamente. A Teramo si torna a parlare del progetto di housing sociale di Via Longo. Questa volta il segretario del Sicet chiede incontro con il prefetto. Il sindaco Brucchi risponde. Non c'è alcuna speculazione. Ascoltiamo. Antonio Di Berardo, segretario provinciale del Sicet, torna a denunciare il problema dell'emergenza abitativa di tante famiglie terramane, stigmatizzando gli appalti dei costruttori e delle banche sul progetto di housing sociale di Via Longo, dove la politica, a giudizio dell'esponente del sindacato degli inquilini, avrebbe dimenticato i cittadini. È stato bloccato tutte le assegnazioni di alloggi in emergenza e quindi il sindaco sapendo che ha l'obbligo, il dovere, almeno per l'emergenza abitativa, che il 30% degli alloggi disponibili devono essere a riserva per l'emergenza abitativa appunto. e quindi ormai sono dal marzo del 2012 che è bloccato tutto e noi adesso oggi siamo qui perché c'è una forte vulnerabilità di persone che a giorni, da qui a qualche giorno, più che da un mese dovranno rilasciare l'alloggio. Io voglio dire questo al sindaco, ha capito di che cosa stiamo parlando? Se lui pensa ancora, parla di Via Longo. Secondo me noi andremo avanti anche con delle forti proteste più forti di quelle che siamo sentiti, andando anche in regione Abruzzo. Ho fatto una lettera al prefetto, auguriamoci che il prefetto accolga questa nostra richiesta e diremo quello che veramente sta succedendo. Abbiamo attivato un piano di mobilità che tutela gli abitanti di Via Longo, stiamo parlando di case non agibili, questo è il discorso, ma questo al sindacato probabilmente non interessa. È una polemica sterile, è strumentale, strumentalizzata a danno dei cittadini purtroppo e questo non va bene. Io sono pronto a fare qualsiasi confronto, anche col prefetto. Quello è un progetto di soldi pubblici, non c'è nessuna speculazione edilizia. Quasi 18 milioni di euro di soldi pubblici, di cassa, depositi e prestiti che arrivano a Teramo per riqualificare un quartiere degradato. Il progetto è nelle sue fasi conclusive di tipo amministrativo e presto partirà invece con le fasi delle ruspe. Abbiamo liberato già il 50% delle palazzine, stiamo avviando a liberare la terza palazzina e quindi poi la quarta, in modo che poi possiamo consegnare il pacchetto a chi poi dovrà fare i lavori. E nei giorni scorsi esponenti dell'amministrazione comunale di Penne hanno incontrato il ministro Lorenzin per parlare della salvaguardia dell'ospedale San Massimo. Vestina News. L'ospedale di Penne continua a far parlare di sé. Da poche ore c'è stato un incontro di una delegazione dell'amministrazione comunale di Penne con il ministro Lorenzin per discutere delle novità. Noi riteniamo e vogliamo e battiamo i pugni sui tavoli della politica perché vogliamo che il presidio ospedaliero di Penne rimanga tale perché in una provincia, come dice la stessa legge, non può esserci un solo ospedale. Ci vogliono minimo due ospedali e riteniamo che quello di Penne sia il numero due come ospedale dopo Pescara. Abbiamo con il testo della legge alla mano espresso il desiderio che venisse effettivamente applicata la legge così come scritta. La nostra zona deve per forza di cose essere servita da un ospedale degno di questo nome, non da una specie di poliambulatorio come si vorrebbe ridurre il nostro ospedale San Massimo. Il ministro Lorenzin ha ascoltato le nostre richieste. Ovviamente io non so come finirà questa cosa, però posso dire che l'impegno noi l'abbiamo messo e adesso aspettiamo fiduciosi che magari la cosa si possa risolvere favorevolmente. Coinvolgere tutti gli amministratori dei comuni che fanno parte dell'area vestina proprio per dire, così come ho fatto poco fa, che questo ospedale deve servire per curare i cittadini di un'intera area, i cittadini che abitano in zone dalle quali è difficile raggiungere Pescara in un lasso di tempo particolarmente breve. Cambiamo argomento, sono stati consegnati ieri mattina in Camera di Commercio di Pescara gli attestati di partecipazione ad un corso di formazione per aspiranti imprenditori giunto a conclusione a fine giugno. Andrea Costantini. Hanno seguito un percorso formativo promosso dalla Camera di Commercio di Pescara che si è concluso lo scorso 30 giugno ed oggi sempre presso l'ente camerale hanno ricevuto gli attestati aspiranti imprenditori, persone che hanno voglia di intraprendere un'attività di impresa e affermarsi e che hanno trovato un utile strumento in questa iniziativa rientrante in un progetto del Fondo Perequativo di Union Camera Nazionale per agevolare le start-up. Abbiamo messo in piedi questo modulo, questi sette moduli di formazione per chi volesse provare a fare impresa, l'obiettivo era di portarne alla fine quattro a operare già direttamente stamattina ne prenderemo quattro che hanno di fatto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio però in itinere nei prossimi mesi ci saranno altre aziende che partiranno. Il nostro dovere è quello di erogare i servizi, di erogare conoscenza. Ecco, attraverso questi corsi di formazione noi stiamo cercando di dire ai giovani italiani venite, noi vi diamo una mano, vi facciamo capire qual è l'impostazione che bisogna avere per cominciare a fare imprese in questo paese. È stata un'esperienza molto positiva perché io lavorando a scuola e quindi avendo chiesto un part-time ora al 50% proprio per realizzare questo mio sogno ho avuto modo di rendermi conto proprio dal di dentro che cosa significherà poter essere imprenditrice. Io non parto fra i primi quattro però ho intenzione di portare la mia idea avanti nei prossimi mesi. Il mio progetto riguarda il carpooling, praticamente un progetto di condivisione dell'auto. L'idea mi è venuta nel momento in cui a Pescara c'è stato il blocco del traffico, tutto quello. Questa è un'idea già adottata in molti comuni negli anni precedenti, poi non so perché bloccata io credo che sia una cosa molto positiva perché va a risolvere numerose questioni. Il comune di Collarmele, unico in Italia, si è giudicato il concorso indetto dal Ministero dell'Ambiente francese denominato Project for Climate realizzando delle pensiline ombreggianti per ricaricare mezzi elettrici. Il territorio del comune di Collarmele è un territorio che ha sempre accolto le specificità dal punto di vista della produzione di energie da fonti rinnovabili, con interventi importanti anche dal punto di vista infrastrutturale, quindi con impatti notevoli anche sul territorio per certi versi perché abbiamo un grossissimo campo eolico, impianti fotovoltaici di una certa dimensione, quindi l'idea nostra qual era? Era quella di continuare su questo percorso ma con interventi dal punto di vista della visibilità meno impattanti possibile ma che dessero anche un senso di continuità a quello che è stata la progettualità di questi ultimi vent'anni e abbiamo pensato alla mobilità, territorio montano, interno che ha problemi di mobilità e quindi abbiamo creato questo sistema di mobilità intelligente a impatto zero che ci consente appunto di impiantare queste tendine, questi piccoli impianti fotovoltaici che alimentano degli generatori che poi serviranno per ricaricare sia i veicoli elettrici che le bici elettriche. Abbiamo stimolato la presentazione di progetti di soluzioni concrete come questa di Collarmele ma ce ne sono anche altri, in Abruzzo ne hanno fra comuni, scuole, cittadini, semplici erano presentati il 19 su 587 progetti in totale che poi sono stati inseriti su questa piattaforma online e che poi sono stati votati da tutto il mondo, ma è la dimostrazione che a volte con l'azione locale anche di piccoli comuni si riesca davvero a produrre delle soluzioni concreta delle tematiche su cui magari i governi nazionali di tutto il mondo stentano ad essere al passo con i tempi. Abruzzo e Iran hanno punti in comune più di quello che si possa immaginare. Si aprirà domani e fino al 27 agosto all'Aurum di Pescara la mostra denominata Popoli e Terre della Lana. Si aprirà domani all'Aurum di Pescara la mostra Popoli delle Terre della Lana che resterà aperta fino al 27 agosto. Circa 50 pannelli saranno esposti e raffiguranti momenti di vita delle tribù nomadi iraniane. In esposizione anche tende e attrezzature per l'allevamento degli animali. Nel corso dell'evento esperti italiani e iraniani illustreranno anche il catalogo di 300 pagine della mostra. Un grandissimo evento di rilevanza internazionale portato a Pescara in Abruzzo e che sicuramente sarà il trampolino di lancio e la vetrina per l'Abruzzo in questo contesto internazionale. Quello che noi rappresenteremo praticamente è quello che è stata la transumanza e che rappresenta tutt'oggi la Transumanza Italia e quello che attualmente è la transumanza e la pastorizia itinerante in Iran. Tribù che vivono costantemente e quotidianamente dell'attività pastorale, quindi la mattina escono al sole e al pascolo, fanno pascolare, la sera rientrano e al calare del sole c'è la mungitura, dopodiché c'è il rito del tè e poi c'è la cena, stare attorno al fuoco, tutte cose che noi racconteremo in questa mostra che è entusiasmante. Che ha costruito negli anni una grande tradizione di qualità nella produzione della lana, questi due percorsi a distanza di tantissimi chilometri hanno un'esperienza comune e hanno una potenzialità comune, per cui mettiamo in questa mostra confronto insieme queste due bellissime esperienze. Abbiamo semplificato questo titolo parlando di popoli terre della lana, ma si potrebbe dire anche del latte, del formaggio, di una serie di altre cose importantissime che sono collegate all'allevamento che quindi da questo punto di vista come origine storica, anzi preistorica, ha delle radici comuni in tutto il mondo e in particolare in quest'area in senso lato mediterranea. Quindi da questo punto di vista c'è stata una base di partenza uguale, unica tra l'Italia e l'Iran. È una gara di calcio all'insegna della solidarietà per favorire l'integrazione. Domani sera in campo all'antistadio si affronteranno le squadre del Senegal e della CGL di Pescara. Un incontro amichevole per dare un calcio all'indifferenza. Il caso di dire è scritto anche nella locandina. Sì, è un calcio all'indifferenza e per lavorare insieme contro il razzismo perché noi pensiamo che si debba costruire un clima diverso nel nostro paese e nella nostra città perché solo se operiamo insieme in vista di una vera integrazione di rapporti davvero seri e duraturi si possa pensare a un futuro importante e questa partita ha lo scopo anche di dimostrare che la solidarietà si può praticare. Infatti il contributo verrà poi devoluto alla comunità senegalese e ai lavoratori che hanno perso il lavoro in questi mesi e quindi noi vogliamo con questo testimoniare che si può fare qualcosa di concreto anche nella nostra città. Vogliamo lanciare un segnale forte alla politica, la politica perché prenda anche decisioni che siano importanti per il futuro di tutti. Pescara è una città accogliente? Sì perché dopo 25 anni a Pescara mi trovo a casa mia quindi questa iniziativa è venuta dal tempo suo perché a Pescara è sempre stata una città accogliente, è sempre accolta quindi fare una partita di calcio del genere vuol dire che aumentare e amplificare veramente l'integrazione di tutti gli stranieri quindi invitiamo tutti a venire a partecipare. La vostra amministrazione sin dall'inizio ha puntato sull'integrazione? Ma direi che oggi come oggi è impensabile pensare di non creare le condizioni perché ci possa essere integrazione, non è un percorso facile, è un percorso complicato, lo stiamo vedendo anche nella nostra città che è un percorso complicato, noi come amministrazione cerchiamo in qualche maniera di utilizzare tutti gli strumenti possibili perché vi sia questa integrazione. Così passiamo alla pagina sportiva quasi fatta per il passaggio del difensore Ghiomber al Pescara, intanto la squadra prosegue il ritiro a Palena, comunicati i prezzi dei biglietti per le prime quattro amichevoli. Amichevoli il servizio. Si avvicina il matrimonio tra il Pescara e Ghiomber. Il difensore slovacco liberato dalla Roma ha detto infatti sì alla formazione bianca azzurra. Se non sorgeranno in toppi dell'ultima ora l'ex catanese diventerà la prossima settimana ufficialmente un giocatore del Pescara. Il 24enne centrale rappresenta una prima scelta per il tecnico Massimo Oddo che così andrebbe praticamente a completare il reparto difensivo. Si allontana invece il trequartista del Legia Varsavia Duda. Il club polacco chiede 4 milioni che il Pescara non è disposto a sborsare. Sul giocatore nelle ultime ore si è inserito anche l'erta Berlino per cui il presidente Biancazzurro Daniele Sebastiani potrebbe decidere di virare su altri obiettivi a meno di un aiuto da parte di Roma o Napoli per la conclusione positiva dell'affare. Sul fronte attacco ci sarà invece da attendere probabilmente fino a Ferragosto. La società adriatica vuole ponderare bene la scelta. Da alcune ore circola anche il nome dell'indimenticato Ciro Immobile. Al momento però più che altro una suggestione considerando l'interesse di altre formazioni per il biondo attaccante oltre che l'ingaggio proibitivo. Matri ed Osvaldo restano ipotesi percorribili ma solo se due calciatori abbasseranno le pretese economiche. Intanto sono in partenza gli attaccanti Forte e Cocco. Il primo andrà al Teramo, il secondo a Frosinone dove ritroverà il suo ex allenatore di Vicenza Pasquale Marino. Anche Di Massimo potrebbe essere ceduto in prestito. Fissati intanto i prezzi dei biglietti per le prime amichevoli stagionali del Pescara per le gare con Palena e Pineto si pagherà 5 euro per le sfide con Teramo e Frosinone 8. Andiamo in Lega Pro e il neottaccante Antonio Croce si dice contento di essere approdato a Teramo. Il paragone con i grandi attaccanti del passato bianco-rosso dice il giocatore è uno stimolo a far bene e lasciare il segno nel prossimo campionato. Ai microfoni di Jacopo Forcella. Antonio Croce bentornato in Abruzzo. Ci ricordiamo le tue esperienze sui campi abruzzesi, questa volta con la maglia del Teramo. Sei pronto? Sì, innanzitutto grazie per il bentornato. Teramo, come tutto l'Abruzzo, la sento un po' come la seconda casa. Qui ho passato dei momenti, un paio d'anni, sono stato benissimo. Quindi oltretutto conosco pure l'ambiente di Teramo, quello che pensano le persone, la gente e quindi mi rimetto in discussione con grande umiltà, grande sacrificio in una piazza importante. Su di te hai scommesso moltissimo il direttore sportivo Fabio Lupo con cui hai lavorato l'anno scorso a Monopoli, centrando una salvezza al play-out sul Fildinana, ma centrandola. Sì, il direttore mi ha voluto moltissimo, quindi io vorrei anche ripagare la fiducia che mi ha dato portandomi in una piazza importante come Teramo e vorrei ripetere almeno quello che ho fatto l'anno scorso, quindi cercherò di mettere il massimo dell'impegno, di sudare la maglia e magari centrare anche qualche obiettivo a livello di squadra e non solo personale. Anche perché negli ultimi, soprattutto nelle ultime due stagioni, chi arriva a Teramo e di ruolo fa l'attaccante purtroppo ha l'ingrato compito di misurarsi con due che non ci sono più ma che rimangono negli occhi di tutti. È una cosa pesante. Sì, per me invece è uno stimolo in più, perché comunque sapendo la storia del Teramo, i giocatori che sono passati, vorrei almeno lasciare un segno come l'hanno lasciato loro, quindi entrare nella storia di questa società. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie.